Start, 2, 1, initial mission and lift off! Oltre le 12 ore e avevo due negozi, avevo qui un negozietto di fast food a cui avevo aggiunto le patatine, gli hot dog, gli hamburger, poi il tutorial mi ha portato a andare in affitto in un ufficio, in un magazzino, impostare, che alla fine è quello che vi spiegherò oggi, ma la cosa mi ha portato a perdere circa 1900 dollari al giorno, quindi ho dovuto vendere tutto, ho venduto anche il mio fast food perché volevo concentrarmi sull'attività che al momento rendeva più di tutte. Al momento è ancora ampiamente in sviluppo però abbiamo al nostro servizio, abbiamo 4 dipendenti e una detta delle pulizie, nello specifico vi faccio vedere che abbiamo 40 ore, ne abbiamo 2 full time e 2 part time, e un part time a 12 ore però per le pulizie e gli orari di lavoro sono questi. Sono arrivato a questa conclusione perché avevo il sabato che aveva questa fascia oraria ed era il giorno della settimana che mi fatturava e mi guadagnava di più, quindi ho deciso di replicarlo il più possibile nei limiti del possibile aggiungendo a questo punto anche le pulizie in modo che non debba andare sempre io a farle. Il gioco ovviamente non è esente da difetti, nel senso sarà da vedere sul lungo periodo se frutterà sempre questa cosa. Ho scoperto anche che qua vicino a casa c'è un supermercato che è comodissimo, praticamente se c'è ancora, qui qua in shop, eccolo qua, aperto due ore ed è un supermercato piccolissimo dove posso andare a fare la spesa per me. Ho comprato anche il furgone che mi consente di trasportare fino a 20 slot merci al contrario delle, mi pare, 8 della macchina, sì. Tra l'altro nella macchina ho ancora gli elettrodomestici che avevo nell'attività che ho chiuso, nel fast food, perché ho detto si sa mai, li avevo pagati tanto e si svalutano tanto a venderli. Ora vi faccio vedere, vi spiego anche due cose. Allora praticamente io avevo, in questa via qui che ho appena superato, avevo il magazzino e nel magazzino potete mettere gli scaffali dove posizionare i pallet, i bancali di legno. E in questa via, giusto qui, avevo posizionato l'ufficio con la mia sede. Nell'ufficio potete mettere, e li ho sperimentati anche quelli, gli avvocati, i programmatori, ho provato solo gli avvocati, e che si fanno pagare tanto, però potete impostare quanto farvi pagare all'ora. E avevo messo la sede centrale. Nella sede centrale potete assumere, badate bene, un addetto agli acquisti e un addetto alla logistica. Poi, nel magazzino, gli potete abbinare un mezzo di trasporto, in questo caso avevo messo questo furgone, l'avevo messo nello slot del magazzino, quindi non era più, diciamo, mio, poi me lo sono ripreso quando ho chiuso tutto. E lì ho assunto un autista. E l'autista provvedeva ad andare qua in fondo, nell'import-export, in questo mi pare, sì, era questo, in questo qui, e comprare a un prezzo veramente bassissimo le merci che mi servivano per negozio di articoli da regalo. Adesso vi faccio l'esempio. Ad esempio, ah, ecco un'altra cosa, quando avete un mezzo di questo tipo potete anche avvicinarvi all'entrata, cliccare e vi porta dentro. Quindi se avete un camion potete addirittura prendere il muletto, perché il muletto è guidabile. Guidate il muletto e caricate le varie cose. Allora, praticamente, voi pagate, adesso vi faccio vedere, mi pare, che, vedete qua, gli regali costosi li pagate circa, no, regali economici li pagate circa 900-200. In realtà io ne compravo 1000 a 3600, quindi vedete che conviene tantissimo prenderlo dall'import-export. Il problema, il problema è stato, che mi ha portato comunque a chiudere tutto, è stato, in primis, il costo di affitto dell'ufficio al 97 più un acconto di quasi 3.000 dollari. Ma soprattutto, il magazzino adesso, io qui ho impostato di mostrarmi tutti i magazzini, vedete che ve li mostra, io avevo preso questo, che è uno dei più piccoli, così il più piccolo, vi costa 794 al giorno, più i dipendenti, almeno due per il magazzino, scusate, per l'ufficio, e l'autista, per il magazzino. Quindi calcolate che le spese poi, diciamo, arrivano. Tra l'altro, tra l'altro, mi si sono, non so perché, dimessi, perché i dipendenti, questa è una cosa molto bella del gioco, si possono dimettere, si sono dimessi uno un giorno, uno l'altro. E l'altra cosa bella del gioco, è che non potete assumere cliccando su una persona o su un tasto, dovete pagare l'azienda che vi cerca i dipendenti, dicendogli che cosa volete. Ve l'avevo già fatto vedere, però, per che attività, di che abilità. Ah no, scusate, ci sono varie agenzie per vari ruoli, in questo caso l'Anderson si occupa dei miei dipendenti. Praticamente scegliete il negozio, scegliete l'assistenza, la fascia d'età, quanti ne volete e in quanto tempo. Ovviamente in un giorno 5.000 li spendete, ma 10 utenti avete, se no, tranquillamente, 500 dollari in 10 giorni e 10 candidati ve li porta. Allora, in questo momento sono venuto qui giusto per fare due chiacchiere, ma ne approfitto anche per vedere l'inventario della mia attività. Il regalo economico sta finendo, il regalo costoso ce ne sono ancora un pochino. Però io nel dubbio ne prendo uno e ne prendo uno. In questo caso li vedete dorati e io potrei già caricarli sul furgone, ma non mi lascerebbe uscire da questo negozio, quindi dovrei ritirarli fuori tutti e pagarli. Quindi pago, carico ed è comodissimo perché io risalgo in macchina, vado dietro e l'auto esce già dritta. Vedete? Già bellissimo così. Bellissimo perché nel magazzino mettete la roba, ve la consegnano, prenotate la spedizione, ve la portano, questo è un sbagliato strada, ma va bene, ve la portano e la vedete sui bancali. E poi, di conseguenza, il vostro furgone dal magazzino li consegnerà ai vostri negozi. E' un bel servizio che vi evita di fare il viaggio che sto facendo ora, il grande problema è che costa. E dovete avere dietro un giro di affari abbastanza consistente. E questa non è nemmeno una delle zone più fluoide della città, io credo. Comunque, in questo caso, adesso vediamo se ho qualcosa, sì, ho Landtack che ho fregato in giro a qualche parte. Scusate, ma non voglio prendere Landtack, Manage Store, prendo un regalo economico, un regalo costoso e li porto dentro. Così che vi faccio vedere anche cosa ho sull'auto. Allora, vabbè, intanto, vedete, ho preso questo, costa 1.200, 1.400, e cliccando sopra ve li mette direttamente lì, quindi non vi occupa spazio in giro, non posizionate a mano. E poi, ovviamente, i dipendenti, la mattina quando arrivano, li prendono e li riespongono. Ho aggiunto altri due scaffali, in modo da velocizzare un pochino. Questo dicono che dovrebbe essere riempito. Poi tutto lindo, perché ogni mattina, appunto, come vi ho detto, ho pianificato. Abbiamo il frigorifero, delle bibite che ho già nel negozio, non mi serve ancora. Le borse di carta, scaffale di stoccaggio, la friggetrice industriale, Landtack, un'altra ancora, e il mojo per pulire, cosa che non mi serve, perché se volete che nel vostro negozio si aggiunga la possibilità di assumere, come vedete qui, la pulizia, in pratica, cleaning station, dovete aggiungere appunto la cleaning station, che qui costa 300 dollari, niente di che. Ora, che cosa devo fare? Non lo so, valuterò un attimino, intanto vedo come vanno gli affari. Sono al giorno 133, ho chiesto un prestito appunto per andare in quel magazzino. Rinunciando a tutto, vendendo tutto quello che avevo preso per l'ufficio, per il magazzino e così, sono andato in alto, talmente in alto che sono riuscito a estinguere il debito che avevo accumulato con la banca. Già avevo finito il debito che il tutorial mi consigliava di fare all'inizio gioco, quindi ora sono completamente libero e gli affari vanno piuttosto bene. Ora dovrebbero essere... ok, l'ora è quella giusta. Questi mi fanno pensare che un domani magari potrebbero arrivare anche le biciclette. Comunque andiamo nel piccolo supermercato, vedete questo è piccolino, però è sotto casa ed è un'altra cosa davvero molto carina. Pago e vado a casa. Cioè è proprio bello anche il cambiamento delle città, i negozi che aprono chiudono, quindi in sintesi adesso andiamo nella mappa appena porto a casa, metto in frigo prima di dimenticarmi e mangio perché... Ok, in sintesi, in conclusione, giusto per approfondire ulteriormente, che cosa si può fare? Beh, in città voi potete apparire diversi tipi di negozio che devo arrivarci in questo modo un po' di traverso. Il negozio di regali, quindi quello che ho io, quindi vendete bibite e regali, economico e costoso. La caffetteria, quindi la tazza del caffè, il cornetto, dovete comprarvi la cassa, il registratore di cassa su tutti e in questo caso per fare il caffè la macchina del caffè industriale che costa una badilata, non so se costa forse 20.000 o una roba del genere, e i cornetti, i cornetti li prendete, li comprate già fatti, fine. Il fast food che appunto è quello che avevo e vendevo hamburger, patatine e hot dog e lattine, stavo pensando di fare la pizza ma poi ho chiuso tutto, la pizza viene pagata a 20 dollari l'una, quindi non è male come business. Il supermercato che è come quello che abbiamo appena visto, qui siamo entrati, che vendono cibo fresco e sorgelato, fine. Molto semplice, la gioielleria, bigiotteria gioielli, l'abbigliamento vanno al classico, moderno, enoteca, bottiglia di vino, insomma questo. Poi non è finita qui perché negli uffici potete andare a creare, come vi ho detto, lo studio legale, lo sviluppo web, qui gli sviluppatori, piuttosto che gli avvocati, li pagate tanto ma tecnicamente ogni intervento che fanno verso i clienti, li fanno tutti senza vedere i clienti fisicamente ma li fanno dal computer, ve li pagano molto bene. La sede centrale invece, come ultima spiegazione, è la possibilità di prendere il manager logistico e l'agente degli acquisti. Quindi praticamente il gioco vi indirizza in tutte le vie, insomma, dove comprare le varie cose per fare tutte le cose. Ora su cosa potrei concentrarmi? Avendo tanti soldi potrei magari cambiare casa, prendermi una casa più grande perché è uno dei miei obiettivi personali, tipo affitta a 100 metri quadri di appartamento. Il problema è che mi renderebbe molto felice ma probabilmente la felicità si abbasserebbe col tempo, quindi sarebbe solo un boost. Potrei provare ad avviare un'altra attività ma al momento mi trovo abbastanza bloccato perché le consegne io posso tenere d'occhio sempre dal menu, qui come vi ho fatto vedere i prezzi ma soprattutto le scorte che ho, ma dovrei farlo per ogni negozio e ogni negozio è un po' un problema senza un magazzino. Dovrei farmi un magazzino e poi comprarmi un furgone per ogni negozio e far consegnare a loro. Questo è il riassunto delle entrate del negozio. In questo caso ieri abbiamo venduto per 3.700, abbiamo pagato 760 di stipendi, 92 di affitto e poi va bene tutto è stato un po' falsato da questi acquisti che abbiamo fatto. Dovemmo vedere magari il giorno prima che non ho fatto questi acquisti, ho venduto 3.000, 3.030, entra, ho pagato sempre il mio affitto, ho pagato sempre gli stipendi, un po' di più perché dipende dai dipendenti, ci sono alcuni che chiedono di più oltre di meno in base alla loro competenza e poi ho preso altre spese, insomma abbiamo avuto un buon guadagno. La cosa che mi fa un po' più storciare il naso è che in momenti come questi, in cui comunque volete far guadagno, l'unica cosa che dovete fare è mangiare e poi andare a dormire. Quindi in questo caso noi dormiamo fino alle 8 del mattino, ma adesso alla mezzanotte vedremo quanto abbiamo guadagnato oggi. 2168, però abbiamo un problema. Lloyd Gomez ha chiamato che è in malattia. Ora, ora, Lloyd Gomez è malato e lui doveva lavorare oggi dalle 14 alle 24. Al momento o metto un'altra cassa con un altro dipendente, però devo assumerlo, quindi mi vuole una giornata almeno, o vado io a lavorare. Quindi in questo caso lui iniziava alle 14, noi salviamo la faccia, perché lasciare un negozio senza commesse non è il massimo. Temporeggiamo fino alle 14. Entrerò alle 14 alle 17, ma anzi, vediamo se riesco a fare una cosa di questo tipo. Ok. Mi recco a lavorare al posto del mio dipendente malato, che spero... Però è molto bello il fatto che possono anche licenziarsi e poi penso che dipenda anche in base all'età. Esempio, Curtis aveva 22 anni quando l'ho assunto, quindi bisognerà calcolare anche quanto vale un anno in questo gioco, perché 134 un anno è passato, quindi secondo me non è 365 giorni, ma meno. O magari... Sì, e compiva semplicemente gli anni. Non ha impiegati. Sì, sì, ma ci penso io. Dove sono i cassieri? Sì, ma non c'è bisogno, eh. Ci sono io. Non vado via. Vabbè, in sintesi, accelero il tempo in modo da non star qui a seguire. Un po' è una partita di tempo, però. Dobbiamo andare avanti il business. Abbiamo chiuso mezzanotte e abbiamo un'entrata di 1.600. Cioè, stiamo aumentando tantissimo le nostre entrate. Quindi dovrei per il prossimo negozio magari analizzare bene, questo ve l'avevo già fatto vedere la volta scorsa nel Market Insider, vedere che cosa va tanto, di cosa c'è tanta domanda, il costo di importazione, vabbè, e nei vari quartieri e vedere magari se c'è qualcosa di interessante. Vediamo, domanda. C'è Mary Hill, il cibo surgelato, bottiglia di vino, bottiglia di vino. Sto andando. Vediamo da noi, patatine e farite. In Hell's Kitchen, la pizza. Mary Hill, il cibo surgelato, e in Midtown c'è gioielli. Però, anche qua, ci facciamo Mary Hill è lì, Midtown è là. Non è proprio vicinissimo, anche perché poi la città diventa abbastanza intricata qua dentro, con i gratacieli. Vedo siano anche affittabili. Ok, questo è... Mamma mia, ci chiedono... Che cos'è questo? Al dettaglio. Ah, ok, un negozio al dettaglio. Ci chiedono mille, ok? Vediamo un po'. Ecco questo qua. Questo qua è un gran negozio. È un gran negozio col magazzino in fondo. Cioè, si parla di una zona, veramente, per pagare mille e cinque dobbiamo fare un fatturato. Ma è una bella sfida, senza dubbio. Allora, intanto... Intanto mi si è girata la mappa e non mi trovo più. Ok. Sì, beh, poi, questo è tipo l'Empire State Building. Affitto, preview. Eh, questo è carino. Questo sembra quasi più un ufficio, però. Vabbè. E questo? No, questo non è interagibile, purtroppo. Vediamo un po'. Questo me lo dava come ufficio. Sì, infatti, è un ufficio, ma un ufficio che costava veramente un occhio dalla testa. Ragazzi, io vi ho aggiunto qualche info, le cose che ho scoperto. Il gioco mi sta divertendo, poi sicuramente sarà da vedere con la beta 6, perché aggiungeranno tantissima roba, aggiungeranno anche, penso, la difficoltà, ma magari anche solo sotto forma di tassazione, quindi per il momento non ci sono tasse da pagare, si pagano gli affitti, si pagano le merci, si guadagna così, magari ci saranno delle tasse e potrebbe diventare molto, molto, molto interessante. È tutto da approfondire, ancora il discorso del magazzino, camion, import, import, export. Conviene davvero l'import, export, però purtroppo non ho modo di potrei pensare, no, non si può neanche importare in un magazzino se affittate solo un magazzino, perché? Perché per l'import, export vi serve un dipendente nella vostra sede che media costantemente con l'import, export, quindi al momento è una cosa totalmente al di fuori delle mie possibilità. Dovrò cercare di espandere questo negozio di regali, ovviamente inteso probabilmente non è inteso come un prodotto singolo ma più prodotti quindi magari pensare di fare più scaffali, tantissimi scaffali in più darà magari più lustro al negozio e ricordiamo inoltre che questo negozio ha una soddisfazione dell'81 ma non ha un grande indice di traffico nemmeno il marketing quindi dovrei cercare andando sul marketing di chiamare l'agenzia che adesso non funziona e me la potrebbe magari pubblicizzare appunto l'agenzia tra l'altro vi faccio vedere proprio l'ultimissima cosa promesso no voglio entrare semplicemente in casa non mangio e poi c'è il bagno non c'è niente allora andiamo alle 10 10.48 che perlomeno sono sicuro che sia tutto aperto allora andiamo qui marketing contatto l'agenzia di marketing e vedete che mi fa scegliere la mia attività se annunci google latergram friendbook o jitter scegliete scegliete le impressioni che volete a settimana la durata poi di base costa meno il friendbook 8.400 latergram 12.000 e google 10.000 e 8.000 e jitter invece 9.600 volessi fare l'itergram che è la più costosa mi costa 428 al giorno che è un costo che io posso permettermi perché comunque ho delle entrate sempre superiori ai 1.500 potrei farlo e aumenterei la portata dei miei affari potrei farlo per una settimana per una settimana pago 900 pago 800 ho delle impressioni e aumento il il mio business il mio giro d'affari la cosa che non ho ancora capito e vi invito se magari qualcuno di voi lo ha giocato possiede il gioco lo sa già capire perché una volta che la campagna di marketing finisce l'indice di traffico scende nuovamente insomma e l'attrattiva non cioè bisognerebbe fare continuamente attrattiva continuamente pubblicità vabbè ragazzi il gioco lo trovate su bigambitions.com insomma il sito ufficiale su steam non c'è ancora lo trovate ma non è acquistabile usciva penso per la fine dell'anno se volete acquistarlo lo ripeto ancora una volta versione silver con il gioco l'accesso alla beta quindi già sono anticipato già su steam vi danno il codice steam e il dlc dei veicoli oppure la parte diciamo la più costosa non 29 ma 39 con anche il dlc dei building ma credo che non siano inseriti adesso sono diciamo quando usciranno su steam quando uscirà il gioco avrete anche quello io invece avrò solo la versione silver quindi avrò solo il dlc veicoli ragazzi io vi ringrazio ancora e vi rimando al prossimo video game play alla prossima ragazzi ciao 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 Grazie.